LIC! Proviamo questi shorts per fare un'integrazione su quanto detto stamane su Bonifazi al Bologna in quanto non sarebbe come erroneamente da me detto bevuto troppo brandy un parametro zero in quanto il contratto con la SPAL è a scadenza giugno 2024 a giugno 2021 è in scadenza il prestito che l'Udinese ha con Bonifazi che poteva esercitare un diritto di riscatto facendo un pagamento di 6 milioni e mezzo cosa che non hanno fatto pertanto con tutta probabilità l'affare Bonifazi al Bologna sarebbe sempre sulla base di un prestito oneroso magari di un milione di euro più i restanti 6, 6 e mezzo a giugno 2022 quindi si andrebbero a sminare anche dei dindini porca di quella...